I giacimenti di petrolio di Virunga e dei Grandi Laghi, il gas naturale di Kivu e poi il Coltan, preziosissimo per fare i telefonini, il cobalto, i diamanti, l'oro, l'uranio e molto altro ancora. L'enorme ricchezza del Congo e anche la sua maledizione, un'enorme torta da spartire, la definì Re Leopoldo II del Belgio, padrone del paese dal 1885 al 1908. Da allora poco è cambiato perché quelle straordinarie risorse sono ancora oggi nelle mani di paesi stranieri e multinazionali. Questa situazione dovrebbe sensibilizzare le autorità locali e le comunità internazionali sulla loro responsabilità diretta o indiretta nella situazione in cui la popolazione congolese vive da diverse decenni. Il paese che dovrebbe essere il più ricco del mondo è in realtà uno dei più poveri. Oltre la metà degli 80 milioni di congolesi vive infatti in condizioni di povertà assoluta. Spesso l'unica prospettiva per i ragazzi, anche giovanissimi, è arruolarsi nelle milizie armate che, pur cambiando nome e affiliazioni, hanno sempre lo stesso scopo. Razziare, stuprare, uccidere, destabilizzare insomma il paese favorendo il lavoro di chi ne saccheggia le ricchezze. Il nostro paese è stato devastato per anni per ragioni economiche e geostrategiche. Il mondo non può più tascere di fronte a queste tragedie umane.